Buongiorno a tutti, oggi incontriamo l'Onorevole Roberto Morassut, Sottosegretario dell'Ambiente, al quale rivolgiamo subito alcune domande riguardo alla recente iniziativa per la costituzione del deposito unico delle scorie radioattive in Italia. Le chiedo subito, Onorevole, questa iniziativa ha aperto una fase di discussione pubblica che tende a coinvolgere la più ampia base civica, corretto? Con la pubblicazione del documento SOGIN sul CNAPI sarà possibile partecipare e discutere sulla localizzazione del sito unico per il deposito delle scorie nucleari. Sarà una partecipazione a 360 gradi che potrà consentire a singoli cittadini, portatori di interesse, amministrazioni, stakeholder di presentare le proprie osservazioni, fare le proprie proposte e anche poter incidere sul processo di decisione finale per la localizzazione del deposito. Ci chiediamo allora come mai questo primo annuncio, che appunto apre a una più ampia discussione tra tutti gli stakeholder interessati, sta suscitando così tante reazioni? È normale che ci siano delle reazioni, che ci sia una discussione, stiamo parlando del resto di una materia sensibile, ma quello che è importante capire è che questa decisione consentirà di razionalizzare il sistema, un sistema che oggi vede in Italia la presenza di oltre 20 depositi temporanei, che pur essendo sicuri sono però localizzati in siti non adatti, di realizzarne uno solo, a norma di legge, con le caratteristiche e le codifiche delle grandi agenzie internazionali su questa materia e di mettere in sicurezza il trattamento e lo stoccaggio di questi materiali che attualmente sono dispersi in tutto il Paese. Quali sono i tempi che si prospettano per la realizzazione definitiva del deposito? I tempi previsti sono circa 44 mesi, includendo in questi i tempi per la partecipazione, per la procedura di individuazione del sito, per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione. Quindi sono tempi lunghi, nel corso di questi tempi lunghi sarà possibile mettere a fuoco non solo la localizzazione migliore e quella che riscontra il maggior consenso delle popolazioni, ma anche redigere un progetto adeguato al stoccaggio di questi materiali e poterlo fare in piena trasparenza. Ci potranno essere contributi europei per la sua realizzazione? Non sono previsti contributi europei, è previsto però un grande finanziamento nazionale per la realizzazione di questo deposito, che poi non è solo un deposito ma è un polo tecnologico e di ricerca all'interno del quale è posizionato in una parte minoritaria del complesso il deposito, quindi un grande polo di sviluppo e di ricerca, ma sono previsti anche risorse di compensazione economico-finanziaria per i comuni che decideranno di ospitare l'infrastruttura, compensazioni che convoglieranno le risorse che attualmente vengono destinate ai comuni che ospitano i depositi temporanei, quindi per chi deciderà di autocandidarsi, perché questo è possibile, è previsto nella procedura, sarà possibile avvalersi di queste utilità economiche. Naturalmente la discussione sulle scorie radioattive coinvolge anche i nostri vicini di casa, in particolare la Francia. So che avete a essere un'iniziativa per parlare delle centrali che sono vicine ai nostri confini, ce le vuole parlare per cortesia? Noi abbiamo chiesto proprio in virtù della necessità di consentire la più ampia partecipazione alla materia, alla Francia di poter coinvolgere le popolazioni italiane nella consultazione che riguarda le centrali nucleari con più di 40 anni vicine ai confini italiani, in territorio francese e che la Francia intende, sulla cui attività intende estendere i tempi, di far partecipare, abbiamo chiesto di far partecipare anche le popolazioni italiane, in questo aderendo a ciò che stabilisce la Convenzione di Expo che prevede una partecipazione trasfrontaliera in questi casi, quando una centrale è molto vecchia, non può essere limitata la partecipazione allo Stato nazionale presso cui la centrale risiede. Abbiamo scritto alla Francia, ci aspettiamo che in adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione di Expo questa richiesta venga accolta. Ringraziamo l'Onorevole Morassut e vi salutiamo per la prossima occasione. Grazie, arrivederci.